niente cibo bevande qui ma guarda quanto cibo la gente ha buttato via non ci credo mia beccata con i biscotti non mi resta che buttarli via insieme agli altri aspetta no so come portarli in classe senza farti beccare ma di che parli ok ingenua ti faccio vedere avvicinati ti spiego come ho fatto innanzitutto ti serve uno di questi porta salviette naturalmente prima devi tirarle fuori poi ci potrai nascondere i tuoi biscotti vedi io l'ho riempita di oreo riempi la confezione fino all'urlo e il gioco è fatto richiudila e poi buon appetito ok proviamo a entrare con questi biscotti nascosti in questo gioco non mi batte nessuno non ci credo ho completamente dimenticato il compleanno di chloe non le ho fatto neanche un regalo oh cavolo i miei lecca 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 le adorerà come faccio a renderli più eccitanti sono un genio i miei lecca 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 che imbecille ora la scatola è tutta rotta che faccio adesso senza scatola dove metto i lecca lecca ed è tutta colpa tua stupida palla aspetta questa potrebbe salvare la situazione apri la palla di plastica e mettici dentro il lecca lecca quindi chiudi la palla poi arrotola un foglio di carta spessa e metti la colla a caldo su un'estremità prima che si asciughi attaccala alla base della tua palla di plastica ora è un lecca lecca gigante non dimenticare la carta regalo buon compleanno chloe wow ma è per me è il lecca lecca più grande mai visto sono proprio fortunata vero ti sei guadagnato una bella bibita adam fare uno spuntino di nascosto può essere complicato oh niente sto solo seguendo questa bellissima lezione accidenti ci è mancato poco faresti meglio a stare attenta lili non esagerare stai mangiando qualcosa te l'ho detto si mangia a ricreazione non qui dio dio alle tue delizie di lì accidenti ma adesso che cosa mi rimane per questo trucco prendi una pila di post it e disegna un grande quadrato in cima ora prendi il taglierino e taglia in profondità lungo le linee dopo aver eliminato la parte nel mezzo continua fino a quando non arrivi a metà pila e ultimo ma non meno importante prendi le tue caramelle e mettile dentro e non dimenticare di coprire tutto ora quando hai voglia di mangiare in classe mantieni la calma e lascia che i tuoi post it salvino la giornata cos'è un film senza i pop corne e questi li adoro ma devo prima farli scoppiare non c'erano quelli già pronti eh lo sapevo aspetta ma neanche questi sono pronti e ora che faccio un'altra scatola chi l'ha messa così in alto no piovono skittles accidenti ma sono ovunque meno male che non volevo fare casino no non nella padella la tempesta di skittles è finita non credevo sarebbe successo sono letteralmente ovunque sicuramente non dovrebbe stare lì immagino che la serata film sia rimandata pulire la cucina di venerdì sera che sfiga vorrei tanto fare uno spuntino e ho una grande idea a questi pop corn servirebbe un po di colore li metterò in padella come al solito ma ci lascerò anche gli skittles e via e senti che buon profumo guarda che colori proverò prima quello rosso saprà di skittles c'è solo un modo per scoprirlo la serata film è ufficialmente tornata stop niente cibo non ti sento non ti sento scusami ma perché non dici niente non mi pagano abbastanza per questo è la tua lingua non ci posso credere non mi sento bene che sfigato la mia lingua è a posto ma una caramella ci sta tutta prendo anche questo grazie tranquillo la mia lingua sta benone dovrebbero chiamarmi il re degli snack gnam gnam Chloe sta tornando da scuola ma non so se riesco ad aspettare così tanto qualche assaggino non rovinerà il mio appetito che buono sa di fragole si prendi questo meglio lasciarlo qui quando ho pulito l'ultima volta che schifo lo appoggerò qui piano fantastico ho pensato che avessi fame dopo il test wow ma che bel pensiero adam avrei giurato che era qui lecca lecca che strano sarà accaduto oh lecca lecca fatti trovare dai ovunque tu sia adam trovato sembra che ci sia cresciuto qualcosa sopra ma è disgustoso però prendo il dollaro guarda tutti questi perucchi che cos'è questo è la sorpresa che stava nelle uova di cioccolato in realtà questo ovetto è molto utile questo lo tengo per dopo basta fare un piccolo foro sul fondo da dove vengono tutti questi perucchi vedi il buchetto in fondo puoi infilarci il bastoncino del lecca lecca in questo modo non toccherà nulla guarda ora niente più pelucchi e poi conservarlo per dopo ne ho fatto uno anche a te vorrei averci pensato prima posso aprire queste ragazzacce io e te ci vediamo dopo perché ora tocca le patatine ho fame è l'ora dello spuntino va bene beh mi serve da bere aspetta dov'è finita la mia bevanda forse sono solo confuso che ne dici di alcune patatine aspetta dove sta andando tutto quanto jake uffa esatto ora ricordo niente spuntini in classe ora cosa faccio aspetta cosa sta mangiando ehi dov'è il cibo questo è solo un taccuino no guarda dentro ascolta prendi un normale taccuino avrai anche bisogno di un coltello ora inizia a tagliare devi tagliare un grande quadrato ora rimuovi tutte le pagine ritagliate guarda c'è spazio per tutte le caramelle e ci stanno benissimo ora chiudi e hai fatto ecco prendi pure ma che buone occhio arriva l'insegnante hai del cibo sembra di no ah 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 ah